Non scendere tutto Lui si muoveva, cominciava a trattare un schiaffone dietro, ma dà paura, ma che era l'ha fatto? Forse non c'è altro Il camminamento A mio negozio gli hanno legato una corda al piede, dimisura dalla lunghezza del pulmino Lui è corso in avanti, ha girato, a un certo punto sentete la corda, è cascata da una musata E' ricordata la madre, è ricordata la cosa, Carmela è incazzata Mi nasce una cazza, mi nasce Me l'ho stata rovinata Guarda, guarda, è un meraviglia qua Aspetta, 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 aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Aspetta, aspetta La teca Freddo, l'Alessandro San Bernardino Siena per la portata Per portare qui le nostre ferie Il resto di noi L'urna votiva Aspetta 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 Questa è altro che YouTube Vai, vai, vai Vai, vai Facci una foto qui Dai, dai, facci una foto, va YouTube Don Alessandro Ah, Kirillaison Kirillaison Riste Saudino Ripete che la Statua Ligna di San D'Antoni Abbate Fu portata nel lontano anno mille Da dei volenterosi valligiani Verso la città dove ora il sito Tu hai tanto amato dai nostri cittadini Dai, faccio la foto Dai, faccio la foto Chi mi raffangulo sopra Aspetta Che ha detto Che ha detto Arrobro in arrobro A quando c'ho visto Padre Penna Quando in coppa quella scrima I furmini facevano salette Facevano fumo per le furmine I furmini facevano salette I salette facevano fumo per le furmine Ammazza Ho visto la morte in vascia Arrobro in arrobro Arrobro in arrobro Ammazza Ti ricordi quando questo Tanti anni fa quando Quando portavano la scala su Dell'Antico Tento E c'era quello C'era ancora Santori E c'era scusa Tu devo fare la pelle A me mi vuoi togliere la pelle Ti ricordi la famosa storia Dell'omino che stava su in cima Che portavano la scala La scala Lungo la linea Lungo lo ski lift A piedi eh Mica mica La cosa amicidiale La via cruci Io penso che nella Cayenna Facevano Arrobro in arrobro Aspetta alza la ciaspola Francesco E questo documentiamo Grandisci la ciaspola Comincia bene la lezione Avvocato Vai Aspetta 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 Lo ski Vabbè Oh Aspetta 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 Lo ski Agisce in questa maniera signora Guarda 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 se facessero una vacanza qualche giorno li ridurremmo in un stato no, andremo a tenere le bestie in buono bestie, no, delle bestie filo hacker, delle bestie ah, guarda questa cosa ma io manco volo faccio ora cosa ha la barzelletta? la barzelletta? e dice la barzelletta il chiosco cosmatisco del santuario la pace proveniente dell'ereo e una, una ciorina che piano piano ricama ora è ricama e vi faccio tutto tutto Cristo ha detto cazzo ma vaffanculo, vaffanculo ma vaffanculo vaffanculo Cristo ha detto cazzo ma vaffanculo ma vaffanculo ma vaffanculo 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 ma vaffanculo Manco lo faccio! Manco lo faccio! Siamo in campanella di Juventus! Manco più la pena! Ma poi chi si prende? Manco questi bellasciatico che si faccio! Dei carchitti! Manco chi si prende? Oddio! Oddio! Sto travo! Non lo faccio! Non lo faccio! Non lo faccio! Il tuo maestro di Juventus! E' un trauma infantile! Si capiscono molte cose qua! Adesso è molto chiaro! E' un trauma! Si scoprono tutti! Dobbiamo confessarli! Ma quanti anni fa? Ma come no? Era piccolissima! C'era solo l'antico tempo! Oggi Paolo ci ha fatto vedere una foto del 68 67-68 No lì! Non c'era del bar! Si ce l'ho io! L'ho fatta! Tu l'hai fatta la foto! Con la ginga! Te l'hai fatto con la ginga! Che ci hai trovato? Che ci hai trovato? Che ci hai trovato? Che ci hai trovato? A Banna 3 anni! Ma non c'era del bar! Ma neanche il baricchio della sorecca! Guarda come lo purgo! Guarda come lo purgo! Come lo purgo! è tutto l'autorizzare